Il piano del rumore o meglio della classificazione acustica oggi in consiglio comunale. Prima c'è stato il lungo iter in commissione, un lavoro complesso sovraordinato anche al piano regolatore che riguarda tutto il territorio comunale sul diviso in classi acustiche a seconda dello stato di fatto dei luoghi e realizzato attraverso dei rilievi fonometrici. La prima classe è quella maggior tutela con recettori sensibili come ospedale, scuole, università e parchi cittadini per arrivare alle ultime due caratterizzate da attività parzialmente e completamente industriali. I centri abitati delle frazioni sono in terza classe acustica, al centro storico in quarta. Accanto a questo documento c'è il regolamento acustico che riguarda la regolamentazione delle emissioni acustiche che si possono avere nelle varie aree della città e nei diversi orari. Sono state individuate anche le aree a pubblico spettacolo per normare la capacità di emissione acustica andando a equilibrare tutti gli interessi presenti in città, sia quelli legati alla movida che quelli di tutela dei residenti. Il regolamento disciplina le emissioni acustiche per tutte le attività, dai cantiere ai grandi eventi alle manifestazioni. C'è un capitolo anche per i piccoli spettacoli legati alle attività commerciali. Un piano atteso in città da molto tempo e speriamo servirà, almeno quelle che sono le nostre intenzioni, è di equilibrare quelli che sono i vari interessi di chi vive la città, sia da parte di chi lavora in città, di chi ha delle attività nel nostro centro storico, ma anche dei residenti che devono vivere e poter riposare il centro storico come tutti lo facciamo nelle varie zone della città. Il piano di classificazione acustica comunale, come dicevo, è un qualcosa di più ampio. Tutta la città, il comune, è stato classificato e zonizzato in sei classi acustiche che vanno da quelle di maggior tutela per i parchi, le scuole, alle aree industriali esclusivamente e prevalentemente industriali. Quindi diciamo una mappatura della nostra città che prevede tutta una serie di attività che sono consentite nelle varie classi acustiche nel rispetto di quei limiti. Per quello che riguarda le attività all'interno del centro storico abbiamo previsto anche che quei limiti possano essere superati, ma le autorizzazioni in deroga vanno concesse. Per alcune zone della città c'è un limite massimo anche di giornate in cui queste deroghe possono essere concesse per garantire un po' la rotazione tra le varie piazze e le aree della città per gli spettacoli e tutte le attività di intrattenimento che sono tipiche ormai dei centri storici non solo dell'Aquila.